Ciao ragazzi, 15 dicembre, cosa abbiamo? Idol Power Cream Allora, questa è la crema corpo profumata della linea Idol cioè che c'è il profumo Idol e c'è anche questa sono 50 ml quindi non è mica poco vediamo un po' se sento il profumo allora, io non sento il profumo posso pure che magari si sprigiona quando uno se la mette anzi facciamo così dai me ne metto un pochino qua ma poco poco e vediamo se si sente ma è una cosa leggera, però si fonde subito ed è di una morbidezza mi lascia pure le mani morbide va bene, va bene al massimo se non lo uso per il corpo lo userò per le mani ciao a tutti a domani ciao a tutti